Oltre 7 milioni per un altro collettore che renda balneabile la fascia costiera. Nuovi collettori tra Eboli e Battipaglia per poter rendere balneabile la costa. E' questo l'oggetto di nuovo bando di gara indetto dall'ASIS di Salerno dal valore di 7.131.394 euro e che interesserà la fascia costiera di Battipaglia ed Eboli, continuando un'opera avviata nei mesi scorsi con il progetto di ripristino del depuratore di coda di Volpe. Il progetto è volto all'estensione del servizio di depurazione sia della fascia costiera che delle aree rurali del comune di Battipaglia ed Eboli. Verrà costruito un nuovo tratto di collettori lungo la litoranea SP 175 nel comune di Battipaglia ed in parte nel comune di Eboli lungo la via spinita SP 135 sita nel comune di Battipaglia, lungo la SP 312 tra la frazione di Santa Lucia e la litoranea di Battipaglia, lungo la SP 262 sita nel comune di Eboli. La procedura è aperta e le offerte verranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine ultimo per partecipare al bando è fissato per il prossimo 7 marzo, con l'esito della gara che verrà reso pubblico una settimana dopo.